Sono chef di professione e di passione. Faccio parte dell'Associazione del Genro Ristoratore d'Europa, nella sezione italiana, chiaramente, da sette anni. Il legame tra Genro Ristoratore d'Europa e Nespresso, intanto, è una partnership. Nespresso è uno sponsor molto importante che ci dà la possibilità anche di fare questi corsi di formazione. Chiaramente abbiamo una corsia privilegiata per l'utilizzo del caffè all'interno del ristorante. Ne ho tratto anche una grande soddisfazione perché gli ospiti sono contenti perché oggettivamente Nespresso fa un prodotto di qualità assolutamente superiore. Fare un'analisi è molto più difficile. È stato molto interessante partire dal caffè crudo e poi via via arrivare alla costruzione del blend per poi capire le varie caratteristiche e fare un percorso ritroso per capire da dove arrivano i vari cultivar. Questa è sicuramente stata la cosa più difficile e più entusiasmante. Questa è sicuramente stata la cosa più difficile. Questa è sicuramente stata la cosa più difficile. Se devo dire cinque aggettivi per definire queste due giornate dico amicizia, entusiasmante, curioso, energetico, bel feeling.